Dovrebbe l'anticiclone lasciare il spazio a una bassa pressione, inizialmente un po' più lontana da noi che dalla Spagna poi entrerebbe verso il Mediterraneo. Questo porterebbe una flusso di correnti più umide, meridionali, quelle che sono mancate in tutti questi mesi e conseguentemente, probabilmente già a partire da mercoledì, ma chiaramente valuteremo, poi aggiorneremo le previsioni, potremo avere più nubi e anche le prime piogge. Sergio Nordio, meteorologo dell'Osmer, intravede dati alla mano la fine di una fase siccitosa abbastanza inusuale per il Friuli Venezia Giulia, che dura da un po' e che segue altri periodi del tutto particolari. Già l'autunno è stato relativamente poco piovoso, quindi abbiamo avuto già un mese di novembre con piogge inferiori al normale e poi a partire da dicembre fino ad adesso contiamo sulle dita di una mano le giornate di piogge e anche di neve che ci sono state sulla nostra regione. Quindi tutto sommato adesso è dal 15 febbraio che non abbiamo piogge significative e anche quella giornata non fu poi particolarmente piovoso. Va detto comunque che considerato in rapporto ad altri anni, neppure andando troppo indietro, non si può parlare di un evento straordinario. Facendo un po' la media dei dati della pianura, anche 5-6 anni fa, abbiamo avuto 6 anni fa, insomma un inverno abbastanza secco e poi andando a corre indietro, quindi 2015, che insomma sono 7 anni, il 2012, il 2005, anche il 2003, quindi insomma mediamente può succedere. Va detto comunque che considerato in rapporto ad altri anni, neppure andando troppo indietro, non si può parlare di un evento straordinario. Ma quando è corretto parlare di siccità? In Soldoni Nordio individua due fenomeni. Nel mese di marzo, per esempio per Trieste, ci aspettiamo un 80-90 mm di pioggia e quindi qualora questo valore sia inferiore, si dice al decimo percentile, quindi si sono caduti meno di 10 mm, se 100 è la media, e quindi quello che è inferiore comincia a essere significativo, no? Ed è il caso di quest'anno, quindi con un marzo che finora è stato completamente secco. Quindi si deve guardare al numero di giorni di pioggia in un mese? Se in un mese ne abbiamo 7-8 di giornate di pioggia, quando questo valore è anche qua inferiore in maniera significativa, siamo a zero quest'anno nel 2022, quindi parliamo in questo caso di periodo siccitoso, no?